Mezzanotte e trenta, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. La politica sempre in primo piano, ormai rottura definitiva tra Movimento 5 Stelle e Lega. Lo Stato Maggiore pentastellato oggi si è riunito a Bibona, nella villa di Beppe Grillo, e ha chiuso a Salvini, non è più affidabile, si legge nella nota diffusa al termine del vertice, fermata da tutti i big del Movimento. Salvini definisce una truffa l'eventuale accordo tra Movimento e PD. Se non c'è un governo, la via maestra sono le elezioni, dichiara, altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora. Sentiamo. Per il Movimento 5 Stelle l'alleanza con la Lega è finita, non è più riproponibile. La decisione è stata assunta nel corso di una riunione ai massimi livelli, cui hanno partecipato Beppe Grillo, Di Battista, Di Maio, Casaleggio, Fico, Taverna e due capigruppo. Al termine dell'incontro lo Stato Maggiore pentastellato ha definito Salvini un interlocutore non più credibile e inaffidabile. Il leader leghista invece se da un lato dice chiediamo elezioni libere, pacifiche, democratiche e siamo pronti anche a scendere in piazza, dall'altro prova sino alla fine a ricuscire con gli alleati. Se qualcuno ha deciso Ribaltoni e Inciuccioni spiega allora lo dica ad altavoce se non c'è un governo la via maestra sono le elezioni, altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora. Intanto per rilanciare una maggioranza alternativa scende in campo anche Romano Prodi che chiede un governo di coalizione di lunga durata in chiave europeista che abbia come perno PD e 5 stelle. Zingaretti, segretario Demme, dice no ad un governo istituzionale e si rimette alle decisioni del capo dello Stato prima di valutare altre soluzioni. Intanto per avere le prime certezze sullo sbocco della crisi si dovrà attendere l'intervento del Premier Conte al Senato il 20 agosto alle 15. Dopodiché o deciderà di recarsi immediatamente al Quirinale per rimettere il suo incarico nelle mani del Presidente Sergio Mattarella oppure di intervenire anche il giorno dopo, il 21 agosto, alla Camera per replicare le dichiarazioni del Senato e rimandare così le sue dimissioni a mercoledì. E adesso la vicenda della Open Arms. Poco fa la Spagna ha fatto un'altra proposta all'ONG spagnola offrendo un porto alle isole Baleari. Intanto oggi quattro migranti hanno tentato di raggiungere la costa a nuoto e sono stati subito riportati a bordo. E Salvini attacca, inaccettabile, organizzano crociere turistiche e decidono loro dove sbarcare. Isola di Minorca per la Open Arms. Ora la destinazione finale potrebbe essere questa. Un porto sicuro in Spagna da raggiungere scortata nel viaggio dalla Guardia Costiera Italiana come proposto dal Ministro dei Trasporti Toninelli e in cui farà sbarcare finalmente i 107 migranti che saranno poi redistribuiti tra Germania, Romania, Portogallo, Lussemburgo, Spagna e Francia pronta ad accoglierne 40. Al diciassettesimo giorno di stallo una possibile via d'uscita alla crisi in mare arriva dal governo di Madrid con il premier ad interim Pedro Sanchez che apre i porti spagnoli alla nave umanitaria da cinque giorni alla fonda di fronte Lampedusa senza poter attraccare. E alla Open Arms torna con una nuova offerta dopo la prima andata a vuoto. Alla nave che batte bandiera spagnola propone di sbarcare sull'isola delle Baleari più vicina rispetto al porto di Algeciras in Andalusia che era stato bocciato dalla ONG perché troppo lontano. Avrebbe richiesto sette giorni di navigazione troppi per una nave carica di migranti allo stremo in cui oggi la tensione è salita alle stelle. Cinque uomini si sono gettati in acqua nel disperato tentativo di raggiungere Lampedusa abbracciate. I volontari li hanno poi recuperati e riportati sulla nave. È inconcepibile la risposta delle autorità italiane e in particolare del ministro Salvini di chiudere tutti i porti attacca il premier spagnolo che minaccia di ricorrere ai tribunali europei contro la linea dei porti chiusi di Roma. In ogni caso l'intervento spagnolo congela per il momento l'attività della magistratura di Agrigento che ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona, violenza e abuso d'ufficio. Un'evacuazione forzata, il sequestro della nave e col conseguente sbarco dei migranti per il momento sono sospese in attesa dell'eventuale partenza della nave. Dalla Open Arms comunque non è ancora arrivata nessuna risposta. È stato trovato morto in un burrone Simon Gautier il giovane escursionista francese disperso nei giorni scorsi nel Cilento. Il corpo del giovane è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in una zona di Belvedere di Ciolandrea nel comune di San Giovanni a Piro in provincia di Salerno. Prima del ritrovamento erano state avvistate tracce di sangue. L'ultimo segnale del giovane francese era stata una telefonata al 118 dell'8 agosto in cui il giovane diceva di essere caduto in una scarpata ed essersi rotto entrambe le gambe. Uno scenario catastrofico quello descritto in un rapporto ufficiale del governo britannico nel caso di una Brexit senza accordo. Dopo il 31 ottobre infatti comincerebbero a scarseggiare generi alimentari, medicine e carburante, si formerebbero code chilometriche di tira all'imbocco del canale della manica e ci sarebbe la paralisi dei porti. Impatto devastante anche sull'economia con una forte perdita di posti di lavoro. Ma intanto oggi Londra ha deciso di cancellare dal 31 ottobre tutte le leggi europee in vigore in Gran Bretagna. Una mossa per fare pressione su Bruxelles e costringerla a tornare al tavolo negoziale. Boris Johnson mercoledì vedrà Angela Merkel mentre il giorno dopo andrà a Parigi per un faccia a faccia con Macron. Ed era l'ultima notizia l'informazione torna domattina come sempre alle 7 con la Rassegna Stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte. 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 Grazie a tutti